abbiamo Gerarda servo di Dio per Spettacolo News. Dov'è? Ciao Zanni, molto piacere. Ciao. C'è qualcosa nella tua vita professionale che rifaresti assolutamente o è qualcosa invece che se potessi eviteresti. Grazie. Guarda sicuramente il rapporto con gli altri artisti è una cosa che rifarei sicuramente. Il tour con Lucio, il tour con Baglioni, l'esperienza di Sanremo insieme a Ruggeri e Tozzi, tutto quello che ho fatto con gli altri. Mi piace, mi piace il gioco di squadra, andare avanti insieme. Altre cose che non rifarei, ma non lo so, alla fine va bene così, devi mettere tutti insieme cose belle, cose brutte, alla fine sei quello che sei e continui ad andare avanti così. Quindi nessun rimpianto. Come dici? Rimpianti? Nessun rimpianto. Come faccio io? Rimpianto hai detto? Sì. No, no, guarda, nessun rimpianto perché ho avuto talmente tante cose da dire che sarei esagerato a chiedere a rimpiangere qualcosa. Grazie mille. Ciao.